L'influencer di viaggio Esther Dingley è stata trovata morta. Era lo scorso 22 novembre quando la giovane è scomparsa mentre compiva da sola un'escursione in montagna sui Pirenei. Da quel momento il fidanzato non ha mai smesso di cercare ed è stato proprio lui a trovare il corpo dopo nove mesi. Daniel Collegate, il fidanzato, ha camminato per mesi nella speranza di ritrovarla e il suo corpo è stato rinvenuto nelle vicinanze in cui era stato individuato un osso poche settimane prima. L'ipotesi più probabile è che la giovane sia deceduta a seguito di una caduta accidentale. Grazie a tutti.